Piero Calamandrei è stato un padre costituente, un divulgatore della Costituzione figlia della Resistenza italiana e anche un messaggero di democrazia e di convivenza tra i popoli. Calamandrei ha compiuto molti viaggi, raccontati attraverso appunti, diari e fotografie, oggi costuditi nei quattro archivi a lui intitolati. Questi archivi sono sparsi da Firenze, Trento, Multepulciano e Roma e si stanno unificando grazie alla digitalizzazione. Nel febbraio 1952 Calamandrei è invitato dalla Facoltà di Diritto dell'Università Nazionale del Messico in occasione dei 400 anni dalla sua fondazione. Qui tiene sei lezioni dal titolo Processo e Democrazia. Per Calamandrei è un'occasione per parlare della Costituzione italiana ancora inattuata e dei suoi nessi con una giustizia fondata sui diritti di libertà e diritti sociali. Durante il viaggio in Messico Calamandrei ha l'occasione di conoscere da vicino la storia del paese, di osservare il suo paesaggio e di riflettere sul rapporto tra la cultura italiana e la cultura messicana. Le sue impressioni sono riportate in una serie di appunti, oggi custodita nell'archivio della Fondazione Giuridica di Roma. Ce lo illustra il suo presidente Vincenzo Zeno Gencovich. Il ruolo della Fondazione Centro Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei, che è stata fondata nel 1978 e particolare nel quadro delle molte istituzioni che si ispirano alla figura di Piero Calamandrei. Nel senso che noi quando siamo stati costituiti appunto 40 anni fa abbiamo cominciato da un lato a rivocare la figura di Piero Calamandrei e dall'altro quello di avviare tutta una serie di iniziative di carattere giuridico a livello legislativo, a livello giurisprudenziale, a livello di ricerca, fu la scia del grande pensiero di Piero Calamandrei costituzionalista, uno degli autori e dei padri della Costituzione. E quindi abbiamo da un lato, e questo grazie al, diciamo, all'ascito che ci ha consegnato la nipote di Piero Calamandrei, Silvia Calamandrei, che raccoglie una serie di scritti di Piero Calamandrei e di corrispondenza relativa agli anni, soprattutto dopo la guerra e che comprendono anche la corrispondenza relativa al suo viaggio in Messico. Da un lato abbiamo ovviamente coltivato la parte archivistica, ma nel tempo stesso abbiamo sviluppato in maniera molto significativa le attività di ricerca attuali e il campo del quale ci siamo particolarmente dedicati sono quelli della tutela della persona, della tutela e dello studio o del diritto dei mezzi di comunicazione e delle nuove tecnologie. Quarant'anni fa, no, le tecnologie davvero non c'era l'informatica, era qualche cosa che comincia, il personal computer entra nel 1981, tanto per darvi un'idea, si comincia solo in quegli anni a parlare di dati personali, l'informatica è davvero una parola futuristica e quindi costituiamo già questa rivista, nel 1985, il diritto all'informazione e dell'informatica e proseguiamo un percorso di studi, di ricerche, di promozione delle attività in questo settore. A questo punto e facendo questo, interroguendo ovviamente con il mondo universitario, con le istituzioni, in particolare il Parlamento e ovviamente anche con la giurisprudenza, con i giudici per favorire nuovi orientamenti di carattere giurisprudenziale a tutela della persona, dei diritti della personalità e della comprensione delle nuove tecnologie. Quindi diciamo che nella Fondazione Piero Calamandrei di Roma ci sono due anni, una storica che contiene, diciamo che un cura e promuove la riscoperta delle attività di Piero Calamandrei. Abbiamo appunto in occasione di questo podcast, abbiamo trovato un bellissimo ritratto fatto da Piero Calamandrei in occasione del suo viaggio in Messico, che era sostanzialmente sconosciuto e che adesso stiamo pubblicizzando, e dall'altro invece promuovere cose che sono rivolte al futuro, come appunto le tecnologie digitali, l'intelligenza artificiale. Dunque ci pare che questo sia un modo per rafforzare Piero Calamandrei, non solo come fondatore di questa nostra democrazia, di questa nostra Costituzione, ma anche di un giurista che dà ispirazioni per studi e ricerche proiettate nel futuro e che confidiamo, diano secondo lo spirito umanistico e razionale, laico di Piero Calamandrei, diano così delle solide basi per questa nostra società nell'affrontare le nuove sfide del futuro. Durante la sua visita in Messico, Calamandrei lascia un'intervista alla radio, dove ripercorre le tappe del suo viaggio. Mi trovo a Città del Messico ormai da due settimane per un corso di lezioni ai quali sono stato invitato dalla Facoltà di Diritto di questa Università. Da quando sono giunto da parte dei colleghi professori e avvocati e da parte della magistratura e delle autorità messicane, ho ricevuto tante attestazioni di simpatia che superano d'assai i miei limitati meriti di studioso e che mi hanno profondamente commosso perché le sento indirizzate non tanto alla mia persona quanto alla millenaria tradizione giuridica che trae la sua fonte inesauribile dal diritto romano e attraverso i saluti rivoltimi come deputato della Camera italiana allo spirito democratico che ha ridestato e che spinge verso l'avvenire la nostra pacifica ed operosa Italia, che nell'articolo primo della Costituzione è definita come una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ero venuto qui semplicemente per tenere un ciclo di lezioni su un tema di diritto processuale, processo e democrazia, ma, oltre alle sei conferenze di cui quel corso si compone, non ho potuto rifiutarmi, di fronte all'insistenza affettuosa dei colleghi, di tenere anche una conferenza su alcuni problemi di diritto costituzionale, dinanzi ai professori e studenti della Scuola Libera di Giurisprudenza che gareggia con la Facoltà Nazionale in desiderio di studi e in interesse per gli studi giuridici, specialmente italiani, e sono stato invitato a partecipare a una riunione tenuta presso la Dante Alighieri di tre accademi per il conferimento di diplomi di socio non solo a me, ma agli insigni processualisti italiani Redenti, Carnelutti e Lipman. Sono stato invitato a tenere presso l'Ateneo Spagnolo una conversazione sulle vicende politiche attraverso le quali l'Italia, nell'ultimo trentennio, ha perduto e poi recuperato la sua libertà. Sono stato ricevuto a Toluca dal governatore dello Stato di Messico con solennità di onori che mi hanno commosso soprattutto perché si è visto in me il deputato del Parlamento italiano e si è voluto fare omaggio con il suono dell'inno di Garibaldi e finalmente, prima della mia partenza, mi si è voluto fare il sommo onore di essere ricevuto in seduta plenaria dei magistrati della Suprema Corte di Giustizia. In queste settimane, in cui, tra una lezione e l'altra, ho potuto visitare, con vivo desiderio di ritorno, i monumenti misteriosi della civiltà azzeca e quelli della nuova civiltà messicana come la meravigliosa città universitaria che sta sorgendo, come per incanto, al di sopra delle stereli terre e l'opera degli affrescanti messicani che rinnovano in maniera che mi ha profondamente colpito i grandi cicli dei nostri pittori. Da Giotto al Mantegna mi è parso di trovare tra l'anima dell'Italia e quella del Messico grande affinita. Viaggiando in certe infinite pianure con i vulcani all'orizzonte, mi pareva di essere o in Sicilia o in Sardegna e vi è in Italia e nel Messico questa antica tradizione di cultura che è affidata alla terra dove, scavando, si trovano i vestigi. Vi è in Italia e nel Messico questa esperienza di dolore e di povertà secolare che dà alla questione sociale questo fermento di passione. Vi è soprattutto qui e in Italia questo fermento di rinnovamento sociale che trasforma il paese incamminato nelle vie legali verso la giustizia sociale. Nel mandare un saluto a tutti gli italiani voglio confidare ad essi la commozione che ho provato nella grande sala di Toluca quando, di fronte a una bandiera tricolore come la nostra, col simbolo dell'ingranaggio dentale, che è quello della Repubblica, sento salutare non me presente, ma il rappresentante del Parlamento italiano con l'inno di liberazione di Garibaldi. Dal viaggio in Messico, Calamandrei porta con sé un album di riproduzioni delle opere di Siqueiros. Nei suoi appunti scrive di essere colpito dai murales presenti nella città universitaria, oggi patrimonio UNESCO. In particolare è impressionato dalla raffigurazione dell'artista messicano sul supplizio dell'ultimo re degli Aztechi. Questi murales ispirano Calamandrei a un confronto con le opere d'arte e i paesaggi italiani, notando molte analogie tra i due paesi. Calamandrei appunta le sue riflessioni sotto forma di brevi flash. Il titolo della loro raccolta è Paesaggio lunare. Da New York a Città del Messico, che è la capitale della Federazione Messicana, l'aereo impiega nominalmente 12 ore, che in realtà sono 14 per lo spostamento del fuso orario. Si parte da New York alle 21 e si dovrebbe arrivare alle 9 della mattina. Da New York a Città del Messico, più di 3.000 chilometri. Le ultime centinaia di chilometri su un paesaggio montagnoso e deserto, che ricorda la Sardegna. Poi, dal verde, si passa al bruno e al bianco. Un paesaggio lunare, marmorizzato. A un certo punto una grande piramide, di cui dall'alto si riconosce la base quadrata. Il primo segno è la piramide Azzeca, il primo segno umano che io ho visto. Si scende a Città del Messico 3 milioni, il Messico circa 2 milioni di chilometri quadrati. Un triangolo di cui il lato più largo è a nord, a confine con gli Stati Uniti d'America. Gli altri due lati sono l'Atlantico e il Pacifico. Si riuniscono ad angolo acuto all'istmo di Tehuantepec, dove vanno a sbattere contro l'America centrale. il Guatemala. Dal confine nord al Guatemala, 2.500 chilometri. Da Madrid a Mosca. Paese in fermento sociale, grandi dislivelli, in trasformazione, miseria, mendicità, la lotteria nazionale, ma soprattutto l'elemento nazionale che sale. Non siamo americani e neanche dell'America Latina. Siamo messicani. L'elemento più impressionante è la storia del Messico, la conquista del Messico è una delle pagine più sorprendenti. Una terribile fiaba. E questa terribile fiaba è ancora presente. Cortés e Montezuma si guardano ancora. E questa storia è ancora presente nel paesaggio, impastata. La storia della conquista del Messico fatta da Cortés dal 1519 al 1521 è una serie di miracoli. Lo sbarco di Cortés a Veracruz con poco più di 500 soldati, 10 cannoni e 16 cavalli. Il modo in cui egli riesce a entrare in contatto con gli azzechi, l'affondamento delle navi, l'inoltrarsi in quel regno, l'accoglienza, la ribellione, Aguilar, l'incontro con il diacono Aguilar che sapeva la lingua maia, l'incontro delle malinche, malinchite, tradimento, nome di un vulcano, la marcia in mezzo al Messico con l'aiuto di Tlaxacaltechi, l'audace di spezzare gli idoli, le stragi di Ciolula, l'arrivo a Messico, città in un'isola a cui si arriva su tre strade, sulla laguna Montezuma, la sua dignità, l'assedio di Messico, la tortura dell'ultimo re. Tutto questo è ancora vivo, c'è ancora la polemica. Gli storici fanno di Cortés la figura di un eroe temerario o di un brigante, la scena di Cortés, la scena di Quanta Mozin, la polemica, affreschi di Rivera, di Orozco, di Siqueiros. Cortés rappresentato come un luetico da Rivera, la malinche, donna malina traditrice, il quadro di Siqueiros, il supplizio di Quanta Mozin. Polemica che alimenta la pittura, paese di pittori, cicli di affreschi, questa passione di rivendicazione non casuale, i pittori nell'ambasceria di Montezuma. Non è un problema razziale, è diventata una polemica sociale, rivendicazioni delle classi sociali più povere, l'Indio è il proletario, il conquistador è il capitalista. Benito Fuárez, Indio, e così Diaz. Accoglienze commuventi, regali, cordialità, questo calore, questa affinità tra i nostri problemi e i loro problemi, questa favolosa storia, un paese in cui non si sente parlare di guerra, non hanno aderito al patto di guerra, sete di cultura, architettura, la città universitaria, paesaggi indimenticabili, i vulcani di Popocatepeti e Paricutin, l'altopiano, colori teneri, le piramidi, del paesaggio e della natura, questa architettura che imita il paesaggio e viceversa, questa compenetrazione che c'è in Italia tra natura e arte, la città universitaria, gli edifici per lo sport a piramide, la biblioteca Torre Cuomoisagi di Rivera, la bandiera tricolore e poi ci accompagnano all'aeroporto. Viene voglia di ritornarci. Calamandrei non è più tornato in Messico, ma i testi delle sue lezioni hanno lasciato un segno profondo. Ancora oggi, processo e democrazia è al centro del dialogo e dell'incontro tra giuristi messicani e italiani. Ce lo spiega Silvia Calamandrei, nipote di Piero e presidente della Biblioteca Archivio di Montepulciano. Le lezioni messicane di Piero Calamandrei hanno lasciato un segno profondo, non solo in America Latina, ma a livello globale, tanto più oggi che le opere giuridiche del giurista italiano sono accessibili in open access in rete. Il testo è stato recentemente riproposto in una collaborazione tra la Facoltà di Giurisprudenza di Siena e il Tribunal Electoral del Potere Judicial della Federazione del Messico. E' reeditato recentemente il 10 maggio l'Università di Giurisprudenza di Siena ha ospitato il professor Oropesa, un giudice di quel Tribunale per una lezione sul diritto costituzionale. E' stata l'occasione per incontrarlo e introdurre la sua prolusione agli studenti di diritto comparato. E sono stata lieta di potergli preannunciare questo nostro ritrovamento archivistico e la cura delle note di viaggio di Piero Calamandrei. Il professor europeo ha illustrato agli studenti la complessa evoluzione costituzionale messicana e ha messo in guardia contro le derive del presidenzialismo riferendosi anche al nostro attuale dibattito in Italia. Questa cooperazione feconda che l'Università di Giurisprudenza di Siena porta avanti con vari interlocutori in America Latina è un segnale di scambio culturale e di vitalità della nostra traduzione giuridica in cui Piero Calamandrei costituisce un punto di riferimento. Le elezioni messicane di Calamandrei hanno lasciato un'eredità nel mondo del diritto sia in Italia che in Messico. Ce lo spiega Elena Bindi docente di diritto costituzionale all'Università di Siena. Piero Calamandrei nel 1952 come è noto fu invitato a tenere un corso di sei conferenze alla Facoltà del Rece della Università Nazionale Autonoma di Città del Messico da alcuni amici messicani conferenze che ebbero molto successo e furono poi raccolte nel volume Processo e democrazia pubblicata in Italia nel 1954. Queste conferenze rappresentano come sottolineato da Bob nel 1958 l'espressione più viva e più compiuta del ripensamento che Calamandrei fece nell'ultima fase del suo pensiero di tutti i dogmi tramandati nella scienza giuridica continentale e testimoniano la risonanza mondiale del suo insegnamento e la sua visione universale del compito della scienza processuale. Perché nel 1948 in Italia era entrata in vigore la Costituzione repubblicana con i suoi principi così innovatori principi che superavano la visione di uno Stato monoclasse che garantiva l'uguaglianza formale per approdare un'uguaglianza sostanziale tipica degli Stati pluriclasse e matrice dei diritti sociali. Difatti nel discorso famoso e inaugurato e pronunciato all'adapertura del Congresso Internazionale di Diritto Processuale Civile Tenutosi a Firenze nel 1950 Calamandrei nuoveva proprio dall'esigenza di ripensare gli istituti processuali alla nuova dei nuovi principi costituzionali. Solamente con questo approccio processual-civilisti sarebbero riusciti a superare il formalismo che caratterizzava gli studi sul processo civile. Il peccato più grave della scienza processualistica di quest'ultimo cinquantennio avvertiva Calamandrei è stato quello di aver separato il processo dal suo scopo sociale di aver studiato il processo come un territorio chiuso come un mondo a sé staccandolo sempre più profondamente da tutti i legami con il diritto sostanziale dalla giustizia insomma. In questo discorso inaugurale come sottolinea dunque Calamandrei il processo deve servire agli uomini bisogna sempre ricordarsi che anche il processo è studio dell'uomo non dimenticarsi mai che tutte le formule giuridiche diventano schemi illusori se non ci rendiamo conto che al di sotto di esse ci sono gli uomini con le loro luce con le loro ombre con le loro virtù e con le loro aberrazioni. Il lascito di Calamandrei in America Latina è importantissimo non solo come ovvio sulla scienza processual civilistica ma anche per gli studiosi della giustizia costituzionale più in generale per tutti i settori del diritto dovunque io vada in America Latina c'è sempre un grande interesse ad approfondire il pensiero di Calamandrei solo per fare qualche esempio Cuba una professoressa di diritto penale mi chiedeva del saggio su beccaria e le riflessioni di Calamandrei sulla pena di morte in Costa Rica mi hanno chiesto un contributo per la rivista di diritto costituzionale comparato sull'evoluzione del pensiero di Calamandrei sul tema dell'interpretazione del diritto in Messico poi vi è molto interesse sul tema del giusto processo e quindi ad esempio sui temi della pubblicità delle udienze sulla motivazione delle sentenze e sull'indipendenza della magistratura tutti i temi cari e calamandrei apportati nelle conferenze messicane in sintesi si può senz'altro dire che in America Latina come in Italia ciò che affascina ancora è la sua fiducia sulla superiore forza degli ideali ed oggi più che mai non possiamo fare a meno di questa fede noi docenti dell'Università di Siena in particolare modono costituzionalisti oltre a me i colleghi Grotti Milano e Pisaneschi abbiamo rapporti di collaborazione molto stretti sia con l'Accademia Interamericana dei Derecius Humanos sia con il Tribunale Electorale del Potere Judicial della Federazione del Messico infatti l'idea di organizzare un'importante giornata di studio il 5 ottobre del 2017 sulle conferenze messicane di Calamandrei ci è avvenuta dialogando con alcuni amici messicani conosciuti proprio grazie alla collaborazione da alcuni anni abbiamo nel Tribunale elettorale dopo questo convegno i cui atti sono stati poi pubblicati nel 2019 con una bella introduzione nell'allora Presidente del Tribunale Genino Talora Malassis i nostri rapporti si sono ancora più consolidati e proprio quest'anno abbiamo ospitato un convegno internazionale all'Università di Siena il 2 febbraio del 2023 organizzato dall'Accademia Interamericana dei Derecius Humanos cui ha partecipato l'attuale Presidente del Tribunale Reyes Rodriguez Modragon e il 10 maggio del 2023 il giudice merito Manuel Gonzales Sopesa ha tenuto una conferenza sull'evoluzione costituzionale in Messico agli studenti della facoltà di giurisprudenza con l'introduzione di Silvia Calamandrei e questo solo per ricordare i due recenti incontri che testimoniano quanto stretti siano i nostri rapporti con il Messico e quanto sia importante per l'Università di Siena in cui Calamandrei stesso ha insegnato continuare quel processo di cui il grande giurista aveva già gettato le basi negli anni Cinquattro Processo e democrazia è stato pubblicato in Italia nel 1954 La versione spagnola ha avuto ampia circolazione in America Latina Il testo è stato tradotto anche in cinese e ciò dimostra l'universalità del suo messaggio che unisce libertà giustizia e democrazia Ascoltiamo ora la parte conclusiva della sesta lezione che sintetizza questo messaggio Il rispetto della personalità nel processo Febbraio 1952 Città del Messico Il processo civile lascia inviolata quella specie di sovranità individuale che ogni persona ha nella chiusa circhia della sua coscienza La dialettica del principio dispositivo è un appello continuato alla ragione e al senso di responsabilità dell'interlocutore Così il giudizio quando si svolge tra parti in buona fede e tra patroni leali è in nuce un esempio perfetto di ordinate e rispettosa cooperazione democratica Ma quanto cammino c'è ancora da compiere prima che a questo rispetto della persona si avvicini il processo penale Questo è un terribile tema che richiederebbe tutto per sé un discorso assai lungo e doloroso ma ormai in questo corso di conferenze che oggi si chiude non c'è più tempo neanche per un breve accenno Questo solo posso dire che se il meccanismo del processo civile è oggi in armonia con la civiltà dei popoli liberi il processo penale anche quello in vigore negli stati che si dicono democratici è ancora fermo ai costumi dell'assolutismo o forse anche più indietro agli istinti belluini della barbarie La pena di morte di cui alla metà del XVIII secolo bastò il memorabile opuscolo di un italiano a smascherare la crudele assurdità solo in Italia e in pochi altri stati fedeli a Cesare Beccaria è stata abolita ma i grandi imperi dominatori del mondo la mantengono anche se a parole pongono a fondamento dei loro ordinamenti politici la uguale dignità morale di tutti gli uomini e la inviolabilità della persona umana nel processo penale l'uomo è ancora invece che un soggetto un oggetto inerte in balia della violenza dell'inquisitore delitto legalizzato è la pena di morte che rende irreparabile l'assassinio dell'innocente ma tutto il processo penale anche se non conduce al supplizio è un seguito di irruzioni brutali entro la cerchia che dovrebbe essere violabile della personalità umana la coercizione fisica è ancora lo strumento preferito dell'inquisitore nell'incertezza della carcerazione preventiva l'imputato è solo con chi lo interroga senza alcuna garanzia di difensore la tortura abolita di nome è rinata sotto altre forne più scientifiche ma non meno prudeli il terzo grado gli interrogatori estenuanti le confessioni estorte il siero della verità e le pene nella massima parte dei reclusori del mondo sono ancora prudelmente afflittive e disumane c'è ancora da compiere un lungo cammino prima che siano soddisfatti i voti che si leggono nella nostra Costituzione affinché sia bandita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà articolo 13 o si tolga alle pene tutto ciò che contravvenga al senso di umanità articolo 27 nel processo civile dei popoli più progrediti ogni uomo anche di fronte alle autorità del giudice è riconosciuto persona nel processo penale dinanzi all'inquisitore che lo interroga o al carceriere che lo incatena o al carnefice che lo uccide l'uomo è ancora cosa non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa questa è una frase di Cesare Beccaria che io non mi stanco di ripetere in ogni occasione perché mi pare che in queste parole dall'apparenza così semplice sia segnata la speranza del genere umano e il programma dell'avvenire e questa è la conclusione con cui si può chiudere questo nostro ciclo di conversazioni sul processo una conclusione che vale per il processo ma che può valere anche come augurio per tutti i campi dell'attività umana agire ognuno come meglio può nel proprio campo affinché l'uomo tutti gli uomini di tutte le classi e di tutti i paesi cessino di essere cose e diventino persone cercare che da ogni uomo si rivela e si diffonda questo calore comunicativo di comprensione umana attraverso il quale gli abitatori di ogni continente arrivino a riconoscersi fratelli di un'unica stirpe anche se vengono da patri lontani divise dagli oceani si accorgono quando si incontrano la prima volta di essere vecchi amici questo è accaduto a me qui nel Messico ho amici messicani che mi avete accolto con tanta bontà sono venuto qui senza conoscervi e alla prima stretta di mano vi ho riconosciuti ho capito che eravamo prima di conoscerci vecchi amici ve lo dico al momento di lasciarvi con la voce che mi trema patria italiana patria vessicana ma c'è una patria più vasta di cui siamo tutti concittadini la patria della scienza la patria della giustizia la patria dell'amicizia leccini dal Messico 1952 è un podcast curato da Fabiana Caristo e Giulia Dettori i brani sono letti da Brando Mazzolai sono intervenuti il professor Zenozenkovic la professoressa Elena Bindi e Silvia Calamandrei il montaggio è a cura di Marco Lodi dell'associazione di promozione sociale Giano Public History si ringraziano Giulio Donzelli e Ilenia Costantini per il loro contributo grazie a tutti Grazie a tutti.